buongiorno e benvenuti nel cuore del Viva Capitanio da Leonardo e Simone Capitanio siamo proprio qui nel nostro giardino botanico appunto il centro di questa azienda dove un po' tutto è iniziato e dove soprattutto nasce e si coltiva la passione nostra e di questa azienda nel mondo delle piante soprattutto del giardino mediterraneo abbiamo deciso di iniziare questo nuovo percorso proprio da qui dall'interno del nostro giardino per provare un nuovo sistema un qualcosa che possa consentirci di arrivare da ognuno di voi a farvi apprezzare la nostra azienda la nostra produzione ma allo stesso tempo anche di portarvi qui da noi senza dover prendere un aereo un'auto o un treno questo momento così difficile questo 2020 dettato dalla pandemia covid ci ha spinto a inventarci qualcosa di diverso noi abbiamo imparato per la nostra storia ad essere non solo resistenti ma anche resilienti e quindi ci siamo inventati un nuovo sistema ognuno di voi riceverà a casa in azienda un visore questo qui non lo mostro in anteprima è un semplice strumento che consentirà a tutti quanti di visualizzare questi video a 360 gradi vi spiego un po come funziona sarà sufficiente estrarre questo cassetto dal lato inserire il telefono al centro avviare da youtube o al direttamente dai link che vi invieremo per email o messaggio avviare il video cliccare il tasto in basso a destra per la visualizzazione vr quindi dispone automaticamente l'immagine su due porzioni dello schermo una volta avviato reinserire il cassetto col telefonino nel visore indossarlo vi basterà regolare con questi pulsanti qui sull'alto in alto regolare le lenti per una migliore visualizzazione e potrete visualizzare questi video che vi daranno la possibilità di immergervi un po virtualmente all'interno della nostra azienda delle nostre produzioni abbiamo pensato di fare questo per portarvi a una nuova esperienza stimolarci un po e anche un po divertirci qualcosa di nuovo sapete noi siamo giovani e ci piace inventarci qualcosa di diverso quindi proprio da qui dal giardino botanico inizieremo questo percorso attraverso tutte le fasi di produzione della nostra azienda tutti i campi dove produciamo le diverse categorie merceologiche vedrete il vivaio dei rampicanti il vivaio dei dei mastelli piuttosto che il vivaio delle nuove delle piccole piante inizieremo però il percorso proprio dal dal primo punto dalla nascita della pianta dalla sera di radicazione e quindi da l'avvio della nostra produzione eccoci adesso dentro la serra più importante il cuore di questa azienda dove nascono tutte le piante di due capitaneo la narsere appunto dove facciamo tutto il taleaggio magari adesso simone ci racconta qualcosa di più allora sì eccoci qui in questa serra dove ogni parametro ideale per la radicazione controllato a partire dall'umidità la temperatura la luce c'è il calore adatto che permette alle nostre radici di venire fuori in questo panetto di carta bioregradabile che aiuta meglio la traspirazione dopodiché queste palettine gialle che vediamo lungo il nostro corridoio indicano un numero di tracciabilità che ci dice e ci dirà tutta la storia e ciò che succederà a questi notti di cante questo è un modo per poter garantire al di là dell'assolvere le obblighi di tracciabilità dettati dalle normative europee anche per noi un modo è poter garantire il cliente e poterli raccontare poterli dire tutto quello che è accaduto sulla produzione modo appunto per innalzare il nostro livello di qualità anche intrinseca nelle nostre strutture nascono più di 3 milioni e mezzo di piante ogni anno e tutte queste piante partono proprio da questo tavolo in gran parte delle piante che facciamo vengono prodotte da talea e qui sapienti mani nelle nostre collaboratrici sanno esattamente cosa fare per più di 500 varietà diverse coltivate in questa azienda tutto il lavoro di selezione manuale del materiale che nasce sulle piante madri in coltivazione nei nostri vivai viene portato qui per essere appunto preparato alla piantumazione all'interno dei nostri paper pot dopo la radicazione le piante vivono un secondo momento di coltivazione quindi un trapianto eseguito manualmente dal paper pot al vasetto 7x7 cm una fase assolutamente necessaria nella quale investiamo molta energia perché crediamo che coltivare bene una giovane pianta consentirgli di radicare meglio consentirgli anche di accestire grazie a delle prime potature spuntature ci consenta di ottenere un prodotto di migliore qualità soprattutto in considerazione del fatto che questo prodotto noi normalmente non lo commercializziamo ma è del tutto necessario alla nostra stessa coltivazione quello che nasce in queste serre appunto riceve tutte le cure necessarie vedete una pianta ben radicata perché sviluppa la sua radice in un terriccio fresco e si prepara alla coltivazione negli ambienti protetti oppure direttamente all'aperto del resto della nostra azienda quando il vasetto 7 ha raggiunto la maturazione quando la pianta è pronta e ben radicata viene qui rinvasata nel vaso 17 o 15 centimetri di diametro e preparata per raggiungere i campi di coltivazione queste operazioni avvengono in gran parte qui nella sede centrale dell'azienda mentre la coltivazione avviene in altri vivai dislocati a circa un raggio di tre chilometri da qui dove abbiamo sia serre che campi all'aperto nei prossimi video vi faremo vedere nel dettaglio che cosa coltiviamo in questi campi per farvi immergere nella nostra realtà arrivederci Grazie a tutti! Grazie a tutti!